Al Congresso Europeo di Oncologia sono stati presentati i dati dello studio ARROW, in cui il contributo dell'Istituto Europeo di Oncologia è stato rilevante. Si tratta di uno studio globale in cui è stata attestata l'attività di Praseltinib, un farmaco a bersaglio molecolare altamente potente e selettivo che mira alle alterazioni oncogene del gene RET. Lo studio presentato all'ESMO riporta i dati sui carcinomi midollari della tiroide. Ne parliamo con il professor Giuseppe Curigliano, direttore della divisione di sviluppo di nuovi farmaci e terapie innovative all'OIEO di Milano. Professor Curigliano, perché questo studio è così importante? Lo studio è importante perché utilizza il farmaco più attivo su un target molecolare che si chiama RET. Il RET è un gene di fusione che si trova espresso soprattutto nei carcinomi midollari della tiroide con una percentuale che può arrivare anche al 70% nelle forme familiari e nei tumori del polmone con una percentuale che va dal 2 al 3%. Il Praseltinib è il farmaco più on target della classe ed è stato condotto un grosso studio globale che è uno studio basket, vale a dire che include diversi tumori solidi, in cui c'erano tumori polmonari, carcinoma midollare della tiroide e svariati altri tipi di tumori solidi. Perché è importante questo studio? Perché in un sottogruppo di pazienti, quelli con carcinoma midollare della tiroide metastatico, dove non ci sono alternative di cure valide, in pazienti pretrattati con antiret non specifici come Vandetinib o Carbonzatinib, il Praseltinib dà fino al 60% di risposte e nei pazienti non pretrattati la percentuale di risposte arriva al 95%. Questo è un farmaco che cambierà il paradigma di trattamento in questi pazienti, ricordando agli ascoltatori che la percentuale di interruzione del farmaco è inferiore al 6%, quindi non è solo attivo, ma si tollerà anche molto bene. A che punto siamo con lo sviluppo clinico? Quando presumibilmente potrebbe essere disponibile per i pazienti italiani. Il Praseltinib è già stato approvato dall'FDA due settimane fa per il trattamento dei tumori del polmone, non a piccole cellule, con la presenza dell'alterazione del genere HET. Il dossier per il carcinoma midollare della tiroide è stato già sottomesso all'FDA, quindi noi pensiamo ragionevolmente che in meno di un anno il farmaco possa essere anche approvato in Europa. Grazie. 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 Grazie.